Francesco Grandolfo potrebbe tornare a vestire la maglia del Monopoli, l'attaccante classe 1992, in scadenza giugno 2024 con l'Arzignano Valchiampo, potrebbe legarsi ai Biancoverdi fino al 30 giugno 2025 e far così il ritorno nella società con cui ha raggiunto i quarti di finale play-off nella stagione 2021-2022. 33 presenze e 6 reti lo scorso anno, 4 gol in 15 partite, nel girone d'andata del girone A di Serie C con la metà delle gare giocate da titolare in questa stagione, Grandolfo potrebbe fare al caso di un attacco che ha bisogno di un lottatore come lui, già abituato al 3-5-2 sistema di gioco, utilizzato da Colombo proprio nel suo anno migliore. Per un Grandolfo che potrebbe arrivare c'è uno starita che potrebbe partire, l'attaccante napoletano ha un'offerta importantissima da parte dell'Avellino che potrebbe significare un deciso passo in avanti nella sua carriera, ma il Monopoli ha bisogno di lui per il finale di stagione e non si è detto soddisfatto dell'offerta arrivata fino a questo momento. Le società si sono prese tempo e l'affare potrebbe farsi dopo la gara di domenica con il Monterosi, una delle sfide più importanti dell'anno. Taurino affronta il suo passato, il Monopoli sarà di fronte ad una diretta concorrente per la salvezza e non deve lasciarsi distrarre da voci che arrivano dall'esterno.